Ciao a tutti, sono Giulio Caragnolo, sono contento di far parte della famiglia del Mental Tennis International. Faccio il maestro di tennis da più di 35 anni, ho avuto tante soddisfazioni, anche qualche delusione, però vabbè, la vita va avanti. Ho avuto la possibilità di lavorare sia all'estero che in Italia, dove naturalmente ho avuto la possibilità di lavorare anche con giocatori professionisti, sia come coach e anche come sparring partner. Ho avuto la fortuna di fare lo sparring a giocatrici importanti, tipo Srena Williams, Benos Williams, Martina Inghis, eccetera, eccetera, eccetera. Ho quindi una buona esperienza, mi reputo un buon maestro sia a livello con i ragazzi sia che con gli adulti. Naturalmente mi propongo soprattutto a livello agonistico perché è ormai da tantissimi anni che ho preso questa via. Faccio il maestro proprio a livello agonistico da più di 25 anni. Sono contento di aver conosciuto Filippo. Primo l'ho conosciuto tramite social e poi anche perché nonostante anche tramite social ho visto il suo entusiasmo sia nei filmati sia in quello che scrive. E quindi credo molto nelle sue possibilità. Ringrazio tutti e cercheremo di trovarci prima il più possibile. Ciao a tutti.